Tutti assolti perché il fatto non sussiste i nove imputati che hanno scelto la via dibattimentale nell'inchiesta avviata dalla procura di Trani sul presunto disastro ambientale contestato alla cementeria Buzzi Unicem di Barletta. Durante il rito abbreviato consumatosi a settembre erano già state assolte con la stessa motivazione altre otto persone. Si chiude così l'indagine avviata dal PM Antonio Savasta nel 2012 sulla gestione ritenuta illecita di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali. Secondo l'accusa la cementeria Buzzi Unicem avrebbe ottenuto indebitamente il via libera ad aumentare la quantità di rifiuti da bruciare passando da 51.000 tonnellate annue a 65.000 grazie alle autorizzazioni rilasciate all'esercizio di questa attività da parte dei funzionari regionali e dei dipendenti di Arpa Puglia. In altri termini i controllori istituzionali che avrebbero dovuto impedire che venissero rilasciate in atmosfera e emissioni inquinanti rivenienti dalla combustione di rifiuti superiori al limite di legge, trattandosi tra l'altro di un impianto ubicato a pochi metri da insediamenti residenziali, avrebbero chiuso un occhio sulla regolarità delle procedure favorendo la multinazionale del cemento e il suo stabilimento di Barletta. Al termine del rito abbreviato e di quello dibattimentale sono cadute tutte le ipotesi di reato contestate agli imputati, dal delitto colpuso contro l'ambiente al falso ideologico, dall'abuso d'ufficio alla violazione della normativa in materia ambientale. Vengono assolti, oltre ai vertici della Buzzi Unicem, anche i legali rappresentanti delle aziende da Lena Ecologie e Trasmar che conferivano rifiuti da bruciare alla cementeria, i dipendenti dell'Arpa Puglia che si occuparono del campionamento fumi, i componenti del comitato tecnico provinciale che espressero parire favorevole al rilascio della valutazione di impatto ambientale, un dirigente ed un funzionario della regione Puglia. A chiedere l'assoluzione degli imputati erano stati non solo i loro difensori legali, ma la stessa pubblica accusa sostenuta dal PM Simona Merra. Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Trani al termine della fase dibattimentale si conosceranno tra 90 giorni.